Serata di gran spettacolo e forti emozioni al ritmo di percussioni ieri sera a Floridia per i giovani allievi dell'Associazione Culturale Artesi diretta da Leonora Sacco in collaborazione con la Piccola Accademia delle Percussioni del maestro Peppe Di Mauro. Ritmi afrocubani, medio orientali, percussioni del sud Italia e percussioni africane hanno animato la serata, protagonisti giovanissimi allievi delle due accademie sapientemente diretti del maestro Peppe Di Mauro. Multipercussionista, ricercatore che studia diverse discipline delle percussioni in Sud America, Nord Africa e Sud Italia all'attivo numerosi concerti in Italia e all'estero con svariate formazioni di musica etnica collabora anche con diverse scuole siciliane, fondatore della Piccola Accademia delle Percussioni. Presente con i suoi piccoli allievi l'Associazione Artesi dove insegna proprio il maestro Di Mauro. Lo spettacolo è stato il momento conclusivo di un anno di corsi ma già si guarda al futuro con queste piccole promesse delle percussioni.